Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono vado a dare subito i riferimenti per chi mi segue oltre che qua ho un canale telegram dove bene o male vi avviso quando c'è qualcosa in arrivo, cioè quando sto per fare un nuovo video quando l'ho fatto, vi dico sin da ora che la prossima settimana immagino farò un video sui corsi più assurdi di addestramento di educatori cinofili che ho sentito in giro e che ho letto ce n'è uno che mi fa impazzire ma non voglio spoilerarvi nulla, oggi però parliamo del mastino siciliano ha un milione e mezzo di nomi, lo potremmo chiamare in tanti nomi, dopo proverò a fare un link su tutti i nomi che vengono usati, una eccellenza italiana che stanno cercando in qualche modo di far riuscire fuori il mio canale telegram è attenti al cane, attenti al can, perché è una cosa simile penso più a attenti al cane, non lo so perché me lo hanno fatto e quindi me lo ritrovo ripeto, attenti al cane è il mio canale telegram dove vi comunico le cose che sto per fare il canale youtube lo conoscete, se volete vi iscrivete, altrimenti no sono contento perché siamo arrivati poco sotto i 3000 ed è un traguardo che mai avrei pensato cioè non pensavo vi fossero un numero di persone tali disposte a seguire delle spiegazioni più o meno valide, più o meno interessanti in relazione ai cani, soprattutto in virtù di quante se ne sentono di ogni natura in un mondo dove purtroppo capita spesso, tutti possono parlare non dovrebbe essere così, ma a noi succede anche questo. Allora intanto come ho conosciuto il mastino siciliano, a differenza di... no, non parliamo di differenze parliamo di me così senza che ci giriamo intorno per puro caso cioè stavo facendo una ricerca su un'altra cosa io come voi ho delle passioni, no? Nutro delle passioni e io come voi degli hobby, delle passioni io come voi vado a fondo in quelle che sono le mie passioni, nello specifico oltre alla Lazio che per me non è una passione, è qualcosa che va oltre chi segue il calcio potrà capirmi, chi non lo segue magari mi prenderà anche in giro però chi invece segue il calcio sa perfettamente che il calcio è una cosa oltre al calcio io come tanti di voi nutro altrettante passioni inutile farne un elenco perché sono veramente tante tra queste passioni per un lungo periodo della mia vita mi sono appassionato al fenomeno del brigantaggio voi direte cosa c'entra il brigantaggio col mastino siciliano? ora io non so se esiste un... anzi no, secondo me esiste un karma un karma personale che ci portiamo dentro tutti quanti noi chi in un senso, chi in un altro, chi in una direzione, chi in un'altra è un karma di ritorno, qualcosa che abbiamo dentro bene, mentre ero completamente perso nello studio del fenomeno del brigantaggio in Italia arrivo ad un certo punto dove mi si collega il capitolo di un libro con queste due parole, con queste parole queste due parole, beati pari stando a quello che leggevo in questa inchiesta che stavo facendo perché poi sconfinava un po' per quanto riguarda anche il mio lavoro leggo, beati paoli erano legati a quello che leggevo al brigantaggio perché in un capitolo che io avevo confuso e vi spiegherò perché leggo che forse i beati paoli erano stati i primi mafiosi cioè che la nascita della mafia era legato ai beati paoli questa infatti sarebbe stata una presunta setta ovviamente segreta che nasceva in Sicilia ed erano un po' come dei vendicatori dei vendicatori in un periodo storico molto particolare della Sicilia il problema qual è anche il soprannome i vendicatori se non sbaglio il problema qual è che mancando fonti specifiche cosa faccio? io compro un libro il libro è quello sbagliato a prendere un libro che in realtà si intitola i beati paoli ma non è non può essere identificato come un saggio storico perché di fatto è un romanzo quindi sono rimasto in sospeso con i beati paoli per quanto riguarda l'indirizzo che avevo preso ma mi sono ritrovato immerso e incuriosito dal fatto che all'interno di questo romanzo venivano citati per l'appunto gli animali questi cani da pastore Mastini non so quando è stato pubblicato il libro però lo scrittore l'autore è del 1800 fine 1800 quindi in realtà neanche troppo troppo in là con il tempo però ormai la scintilla era partita era partita mi trovo dentro l'autore è Natoli si dovrebbe chiamare Natoli Luigi Natoli i beati paoli questo è il testo dove mi sono incuriosito la prima volta quindi esperienze professionali io fino a quel momento avute e anche dopo con il mastino siciliano mai avute professionale intese come accidenti hai lavorato con il mastino siciliano no non ci ho mai lavorato ma ho avuto la fortuna di vederne diversi e chiaramente quando tu vedi un mastino siciliano posto poi che non essendoci ancora come dire uno standard uno standard vero e proprio perché è del 2014 il suo ingresso da una porta laterale per poter essere ristrutturato all'interno del registro supplementare aperto quindi non abbiamo del mastino siciliano un'idea concreta fissata né uno stereotipo né un fenotipo non ce l'abbiamo abbiamo un'idea di questo cane che però contrariamente a tantissimi altri cani è da considerarsi almeno per quanto riguarda la nostra penisola soprattutto l'isola siciliana ma l'Italia se vogliamo essere un po' orgogliosi del nostro paese è da considerarsi insieme al cirnego dell'Etna verosimilmente uno dei cani più antichi del nostro paese uno dei cani da lavoro più antichi del nostro paese ed entrare nella storia del pastore siciliano è un'avventura bellissima perché intanto si capiscono i limiti che noi italiani abbiamo nel non essere capaci di vitalizzare di rivitalizzare quanto di bello abbiamo e andiamo sempre all'estero a cercare delle cose che poi abbiamo se non superiori anche in Italia mi viene sempre in mente purtroppo ormai ho un riflesso condizionato l'allevatore dei pastori del Piemonte che si è inventato una razza facendo finta che questa sia un manteconvenino prendere il mastino siciliano magari provavi facendo un lavoro simile anche a valorizzare l'impietà di questo cane che ha uno storico incredibile viene nominato nella storia in diverse occasioni e in diverse anche occupazioni della Sicilia cioè è stato un cane che a differenza di tanti altri cani dove si suppone che dentro c'è ciccia cioè che dentro c'è roba cioè noi sappiamo che un cane italiano il mastino siciliano è esistito ha avuto una importanza all'interno del tessuto sociale siciliano nel suo sviluppo eppure oggi nel 2019 ancora dobbiamo dargli uno standard però premesso che a differenza di altri casi intorno al mastino siciliano o pastore siciliano o cane di mannara o mannara a seconda del dove come lo si pronuncia a differenza di tanti altri cani questo è uno storico è un cane storico per il quale stanno lavorando veterinari studiosi persone che conoscono l'etologia ma la conoscono tecnicamente zootecnici persone per bene sarebbe bello anche se il gatto prescioloso ha fatto i figli ciechi se qualcuno si sbrigasse finalmente a dare delle linee guida per gli allevatori del mastino siciliano non si offenda nessuno se uso a volte pastore a volte mastino ma mi confondo mi confondo sempre detto questo ho avuto poi modo di conoscerlo perché la cinofilia è un ambiente dove se hai modo di conoscere appassionati poi hai anche modo di scambiarti opinioni quindi diverse persone mi hanno chiesto se era adatto a fare una cosa se era adatto a fare un'altra cosa devo dire che non sempre ho trovato le stesse caratteristiche genetiche in tutti i pastori e in tutti i mastini siciliani quello che ho trovato in questi cani però è una una lealtà che diventa difficile da spiegare sotto l'aspetto cinofilo una lealtà molto alta ora la domanda è come faccio io a spiegare una lealtà quando si ha a che fare con un cane o con la cinofilia in generale bene non lo so e non so spiegarvelo lealtà è ad esempio per quanto posso averli conosciuti io sono cani che non aggrediscono una persona che cammina al posto sbagliato nel momento sbagliato incolpevole di qualcosa lealtà è un cane non vile quindi non mi è mai capitato di vedere mastini siciliani inseguirti quando te ne stai andando perché magari gli hai dato le spalle in realtà perché è un cane che non ti inganna tu capisci dal primo momento in cui lo hai al guinzaglio che è un cane al quale non devi chiedere determinate cose perché non te le darà non hai un pastore tedesco non hai un rottweiler non hai un cane che è stato selezionato per il lavoro per l'uomo ma è un cane che il tempo ha selezionato come compagno di lavoro con l'uomo avverti nelle sue dinamiche comportamentali parlo per me un cane che difende il territorio in modo estremo dove estremo in matematica è un concetto lontanissimo come è in uso dire al limite ci vediamo più tardi al limite in matematica è un concetto lontanissimo significa oltre il non arriva mai al limite estremo per come io intendo estremo il mastino siciliano in quelli che ho avuto modo di vedere io vi spiego ora perché hanno una un possesso della proprietà che va forse oltre tutti i cani che ho avuto modo di vedere e sperimentare tuttora lo dico con cautela perché mentre parlo provo a riflettere c'è da dire però che la gestione del mastino siciliano se duro e puro quindi se vai a prendere un cane di quelli particolarmente tosti non è un cane che ti concede un grandissimo margine di errore è un cane che vuole polso è un cane che devi saper gestire è un cane che devi considerare come un elemento naturale che porta e conserva con sé una serie di atteggiamenti che lo hanno fatto sopravvivere anche ad una quasi estinzione un cane che per lunghi periodi della sua esistenza è stato sì nelle masserie sì all'interno di proprietà di grandi fattori oggi chiedo scusa perché mi concedo tante ripetizioni una licenza narrativa ma è un cane che ha vissuto per lunghi periodi anche il randagismo e quindi se l'è dovuta cavare e immagino sia lì che abbia sviluppato questa incredibile risorsa che ha come animale dell'essere un estremo difensore di ciò che lui considera di sua proprietà quello che leggete negli scritti storici di Ninfodoro di Siracusa lo potete per quanto sia se vogliamo esacerbato o esasperato da una scrittura storica lo ritrovate nell'attualità di certi allevamenti a Roma ad esempio nel Lazio c'è un allevatore low profile che sta facendo dal mio punto di vista un allevatore a perdere cioè io lo considero più un ricercatore che non un allevatore del quale come al solito come di consueto non farò mai il nome e quindi vi prego anche di non chiedermelo in privato perché questa cosa del chiedermi in privato il nome di un allevatore o di un altro è una cosa che mi mette sempre in difficoltà perché se faccio il nome di uno faccio torto a tutti gli altri che conosco quindi no questo canale non è un veicolo pubblicitario ma un veicolo di condivisione a qualcuno piace ad altri meno a chi non piace contarsene chi piace è benvenuto comunque questo signore questo professore perché poi è un professore che alleva a perdere qua nel Lazio non a Roma ho sbagliato Mastini siciliani lo fa con una dovizia di particolari veramente incredibile infatti mi piacerebbe fare una live con lui e proprio questa mattina vale a dire oggi oggi è il 18 marzo ho parlato con lui il 2019 circa un'oretta abbiamo provato ad organizzare una live ma quando non si è giovanissimi non è semplice capire la tecnologia quindi magari proveremo a farla più avanti con degli approfondimenti che possono essere quelli che da lui e non quelli che posso dare io che non sono approfondimenti ma sono dei punti di vista di chi vede intanto un ambiente per me non sconosciuto ma non necessariamente vicino a me perché quando parliamo di di Massino siciliano non parliamo di cani che vanno cani dai quali si può andare ad attingere per quanto riguarda la mia professione o il mio lavoro ma entriamo in un'altra sfera nella sfera di un cane che va assurda perché non ha nulla da invidiare al Mastino del Caucaso al Mastino tibetano Mastino pastore fate voi perché poi la deontologia si confonde e fa sorridere immaginate tutti i Mastini che vi vengono in mente beh scoprirete che il Mastino siciliano ce lo abbiamo in casa e non ha nulla da invidiare a nessuno degli altri cani anzi sarebbe bello se si riuscisse a ricreare un movimento tale fino anche a correre il rischio perché no di mandarlo di moda che non sempre è un male è un male quando poi dopo si esagera però è un bene quando la moda si usa per portare a conoscenza determinate persone di una cosa che prima semplicemente non conoscevano e dal mio punto di vista nel caso del Mastino siciliano così come nel caso del Dogo Sardo così come nel caso del Mastino Abruzzese e non pastore si fa bene si farebbe bene perché si darebbe modo a tante persone di conoscere un cane sconosciuto semplicemente sconosciuto a tal proposito dico sin da ora a quelli che mi scriveranno ma non è così non è esattamente così allora ringrazia che sto parlando di un cane del quale altrimenti non parlerebbe nessuno quindi invece di le critiche va bene però qualunque cosa c'è da aggiungere sul Mastino siciliano nei commenti a me sta bene a me sta bene perché che non lo conosco così bene dal poter dire una cosa piuttosto che un'altra e perché non ho un parametro o un metro di giudizio in relazione al fatto che anche laddove se avessi tanti cani da visionare da guardare da sperimentare non avrei comunque allo stato attuale un chiaro metro di giudizio in relazione alla quantità di cani o allo standard stesso quindi non avendo io un metro di giudizio io credo che nel caso del Mastino siciliano più che in tanti altri cani è giusto che a scrivere qua sotto o altrove qualcosa di specifico siano proprio gli allevatori ma non quelli che ne fanno business nel senso che fare business con i cani oggi è facile o comunque molti lo fanno con incredibile facilità perché il mancato studio e quindi il tutto e subito di internet ha portato a credere di conoscere tante cose a tante persone prima dovevi leggere dovevi stare sul campo dovevi lavorare era più difficile oggi purtroppo non è così e allora capita il primo scemo che prende e ti fa la filippica su quello che lui è convinto di essere vero sul Mastino siciliano allora certezze sul Mastino siciliano le hanno in poche veramente in pochissime persone quelli che ne hanno sono legittimati a parlarne perché ne stanno facendo tesoro in condivisione sono almeno tre o quattro le associazioni che stanno cercando di dare finalmente uno standard da presentare in esposizioni la famosa bellezza che tanti denigrano non considerando il fatto che la bellezza ti porta poi ad avere un'iscrizione all'Enci e quindi ad essere una razza certificata e riconosciuta nel mondo quindi a volte anche quando si critica con estrema osterità chi fa la bellezza non si tiene conto del fatto che bellezza e lavoro il più delle volte camminano insieme per fissare uno standard quindi tornando a noi sul mastino siciliano un cane che muove personalmente grandissima curiosità vorrei vederne e conoscerli meglio a Roma ho la possibilità e nel Lazio di vedere solamente quelli di questa persona e ovviamente sei sei cani che ho visto in giro quindi parliamo di numeri esigui un consiglio che posso dare ad un mascalzone che dovesse tentare di entrare nella casa di uno di questi sei ecco siate disposti a tutto se volete entrare di nascosto a casa di chi ha un mastino siciliano non dico che non potete entrarci però siate disposti a non uscire quando entrate la via perché batto sempre il tasto sul riconoscimento dell'enci perché il recupero di un cane così importante deve essere fatto dall'enci l'enci dovrebbe sentirsi obbligata a fissare uno standard al fine di sostenere una cinofilia con degli esemplari che abbiamo nel nostro paese di razze incredibili che fatichiamo a far sviluppare ci poniamo anche il problema della moda perché noi siamo sempre fighetti nel porci problema quando poi altri non si può con il problema vale a dire ci stanno bene le mode estere si ma perché non andare di moda il mastino siciliano ovviamente oggi come sempre chiunque ne sapesse di più è invitato a commentare e a scrivere delle cose che io per primo non conosco e quando una cosa non la conosco la studio grazie a tutti ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti Grazie a tutti